In questo tutorial vediamo come utilizzare Webnode base per creare un sito web per diverse esigenze didattiche o semplicemente per un uso personale o professionale. Innanzitutto andiamo su webnode.it e clicchiamo su inizia e scriviamo il nome che vogliamo dare al sito che vogliamo creare. Possiamo ad esempio creare un e-portfolio dove possiamo inserire tutte le nostre esperienze oppure semplicemente un sito per pubblicare progetti svolti per dare loro appunto una visibilità o per creare un negozio online o per altre esigenze personali. Una volta deciso il nome del sito scegliamo il template, prima di scegliere il template appunto scriviamo l'indirizzo email, la password e poi facciamo registra e crea. Una volta inserito il nome del sito che vogliamo dare viene la spunta per dire che è disponibile, inseriamo anche una email, una password e proseguiamo con registra e crea. Ok, una volta che abbiamo cliccato su registra e crea, scegliamo che tipo di sito web vogliamo creare. Abbiamo sito aziendale, se mi si è cliccato, scegliamo che tipo di sito web vogliamo creare, se è un sito personale, aziendale oppure un e-commerce. Se scegliamo appunto il sito aziendale oppure quello di e-commerce avremo delle pagine che saranno predisposte per essere esposte ai prodotti che uno vende con i prezzi eccetera. A titolo esemplificativo scegliamo questo sito personale che si presta appunto anche per esigenze didattiche per potenziare appunto la produzione scritta oppure esporre dei progetti che uno svolge a scuola o semplicemente, come dicevo prima, anche un e-portfolio dove si può registrare le proprie esperienze personali. Come vedete i template sono molto belli, difficile veramente da decidere, ma per velocizzare vediamo, scegliamo uno qualsiasi, questo ad esempio, ci clicchiamo sopra e facciamo scegli. Attendiamo un attimo, il sito viene creato ed eccolo qui. Dopo il benvenuto facciamo inizia a modificare, ci clicchiamo sopra e siamo pronti per modificare il titolo. Personalizziamo il titolo, vediamo, scriviamo qualcosa, you learn for example writing by writing, dal momento in cui utilizzo questo tipologie di blog city per la produzione scritta degli allievi. Proviamo a vedere, adattiamo anche questo, scriviamo qualche aforisma, vediamo, ok, every... Abbiamo cambiato il titolo, abbiamo scritto il sottotitolo, possiamo anche personalizzare questa parte del logo e scrivere il nostro nome per appunto personalizzare il sito. Ogni parte è appunto facilmente modificabile, basta selezionare e scrivere la personalizzazione appunto che vogliamo dare al sito. Allora, scriviamo così, poi come vedete anche qui si può modificare, basta cliccarci sopra, ok, ci clicchiamo e ci appare questa pagina dove possiamo anche qui modificare il titolo. Scriviamo quello che vogliamo scrivere e lo stesso vale per il sottotitolo, basta selezionare appunto e scrivere. Se vogliamo modificare anche queste scritte qua sopra, basta che andiamo su pagina, ci clicchiamo ad esempio chi siamo e da qui possiamo scrivere lo stesso titolo che abbiamo dato alla pagina. E poi facciamo chiudi, a questo punto il nome viene cambiato, andiamo a vedere, modifichiamo anche il listino prezzi, andiamo su pagina, ci clicchiamo sopra, listino prezzi, togliamo e scrivo ad esempio writing topics che potrebbe servirmi appunto per sviluppare la competenza, con l'abilità di scrittura e il writing dei miei allunni. Questo si modifica, lo stesso possiamo fare con la galleria delle immagini, qua possiamo cambiare e scrivere appunto photo gallery for example, e lo stesso come abbiamo visto prima possiamo anche modificare il sottotitolo. Andiamo a vedere adesso come modificare lo sfondo. Lo sfondo per modificare è molto semplice perché basta che andiamo su questa rotellina delle impostazioni e poi facciamo aggiungi immagine, qui abbiamo la possibilità di scegliere le immagini già predisposte, oppure caricare una nostra personale da questo tasto, i miei immagini, e poi carico le immagini da questo tasto dal proprio computer. Una volta che abbiamo modificato lo sfondo con il tasto che abbiamo visto prima, quindi con questo tasto che abbiamo visto possiamo modificare lo sfondo, di queste immagini che vediamo qui possiamo scegliere e poi proseguiamo a cambiare ogni parte del sito che abbiamo scelto e possiamo scrivere quello che desideriamo. Quindi qua è sempre meglio non mettere se non è un negozio un numero di telefono, possiamo mettere ad esempio una e-mail personale per i contatti, per i contatti se vogliamo mettere appunto qualcuno se vuole contattarci possiamo inserire qui la nostra e-mail, adattare tutte le immagini che troviamo, come vedete modifica e tutto si modifica, se non lo vogliamo invece possiamo semplicemente cestinare. Con semplici passaggi abbiamo modificato il sito che abbiamo trovato già pronto, da così l'abbiamo reso così, modificando appunto lo sfondo, personalizzando le parti che abbiamo visto prima con semplici passaggi. Questo è tutto, se questo webinar tutorial ti è servito sicuramente troverai utili anche gli altri video tutorial di Fauzia Tutor Online, iscriviti a questo canale e attiva le notifiche per sapere quando un nuovo video viene caricato. Alla prossima puntata, ciao!